Le considerazioni del primo cittadino di Favara, Mimmo Russello, rilasciate alla nostra emittente televisiva e quindi alla cittadinanza favarese a fine seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, hanno suscitato diverse reazioni nel mondo politico locale. Ricordiamo che durante la seduta del Consiglio Comunale il consigliere del PDL Corrente Bosco Antonio Fallea aveva fatto un intervento definendo la relazione del sindaco una vergogna e che secondo lo stesso Fallea nella lista dei progetti realizzati dall'amministrazione sarebbero stati inseriti una serie di provvedimenti elencati per il solo scopo di incrementare il numero di pagine prodotte. Nelle considerazioni del sindaco Russello, rilasciate subito dopo la seduta del Consiglio Comunale, aveva definito l'intervento del consigliere Fallea offensivo e che voleva solo ridicolizzare ancora una volta e come nel suo stile l'operato dell'amministrazione comunale. Da queste parole del sindaco si è mosso l'intero consiglio comunale. Ieri martedì 9 novembre si è riunita la conferenza dei capigruppo che ha voluto stilare un documento votato all'unanimità e quindi anche dal gruppo politico di Futura Libertà di cui fa parte il primo cittadino, nel quale si esprime vivo rincrescimento per quanto detto dal sindaco Russello ai microfoni di Sicilia TV. I capigruppo, Salvatore Signorino Gelo, Santo Pitruzzella, Gaetano Cibella, Calogero Castronovo, Angelo Messinese, Calogero Pitruzzella, Diego Costanza, Luigi Sferrazza e Paolo Dallicardillo e il presidente del consiglio, Luca Gargano, a nome dei rispettivi partiti ritengono che le osservazioni del sindaco siano stati resivi del corretto rapporto di Russello con l'intero consiglio comunale e di singoli consiglieri. La conferenza dei capigruppo ritiene che quanto discusso e dibattuto in consiglio comunale si deve poter controbattere e controdedurre nello stesso consiglio in un confronto libero e democratico. Il sindaco nel consiglio comunale può, come ha sempre fatto, scrivono, replicare e controdedurre agli interventi che si oppongono al suo operato. Pertanto ritengono scorretto da parte del capo dell'amministrazione controdedurre all'intervento del consigliere Antonio Fallea fuori dal consiglio comunale, polemizzando con lo stesso con attacchi e considerazioni sulla sua persona che si ritengono lesivi della dignità del consigliere Fallea e dell'intero consiglio comunale.